Una domenica veramente movimentata, quella di Domenica Inn, con una reazione improvvisa ed inattesa mostrata da Mara Venier. La Venier sbotta ad un certo punto, alzandosi e lasciandosi andare ad uno sfogo plateale, il tutto con un tono a metà tra il serio ed il faceto. Sapete che vi dico che io vado via, ma non si può ragazzi, sul più bello, non funziona niente. Poi si rivolge il direttore di Re 1, Stefano Coletta. Coletta, che devo fare? Vado a casa, veramente esaurita, non ci resta niente da fare che guardare la Leva 2 questa sera. Vado a casa e mi faccio un paio di bicchieri di vino. Un intervento alla fine giocoso e che sui social il pubblico da casa ha apprezzato. Così come il personale ha postato dietro le quinte, cheppure ha lasciato partire un applauso di incoraggiamento per Mara Venier. Gli stessi ospiti in collegamento hanno apprezzato reagendo con divertimento. Su Instagram la Venier scrive, una domenica bestiale, collegamenti non funzionava niente, chiedo scusa al maestro Iginio Massari. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!